Tante vertenze sindacali aperte, purtroppo quasi nessuna soluzione all'orizzonte. All'Aquila il comparto dei call center dà lavoro a moltissime famiglie, giovani e meno giovani, ma dopo qualche anno di sprint anche questo settore è in crisi. L'ultima mazzata, quella delle Care, il call center che ha sede a Monticchio, vicino l'Aquila. Purtroppo l'azienda ha sostanzialmente confermato i 200 esuberi tra la sede dell'Aquila e quella di Roma. La proprietà qui è cambiata due volte e ora la partita si gioca interamente sul tavolo nazionale. Per questo il vicepresidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli ha partecipato ieri a una riunione a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico, proprio per scongiurare i licenziamenti. Anche i sindacati dicono no alla delocalizzazione. Difficile anche la situazione del consorzio lavorabile che operava in subappalto su una commessa IMSS. Ora, come è noto, c'è una gara in corso. Si è tenuto che il subappalto entrasse nella clausola sociale. Dopo che la gara sarà vinta, si vigilerà sulla riassunzione, assicurano i sindacati, per intero dei 600 dipendenti. All'Aquila, ovviamente, e non in altra sede. Gravissima anche la situazione alla Intex, un centro di ricerca che ha sempre rappresentato un'eccellenza aquilana. L'azienda vuole chiudere all'Aquila e per questo è stato fatto un accordo sindacale per il quale le aziende poi dovrebbero rivolgersi a questi lavoratori per non perdere le professionalità. Esiste ad oggi un progetto sulla space economy di 10 milioni. Alenia Space in realtà potrebbe intervenire per cercare di salvare almeno i lavoratori. Insomma, un quadro a tinte fosche e una situazione sempre più ingarbugliata che rischia di far sprofondare l'Aquila in una situazione occupazionale ancora più drammatica di quella che è.